Allora, a me non piace affatto che la gente deve mettere in bocca delle cose che io non ho detto. Io non ho mai detto la Juve stasera vince a San Siro con l'Inter. Non ho mai detto la Juve vincerà lo scudetto. Ora, se voi non credetemi parole, andate in questo canale qui e cercate i video vecchi dove parlo di calcio e vi rendete conto che non l'ho mai detto. L'unica cosa che mi sono sentito di dire è quella che si basa sulla verità. Cioè, la Juve punta a non perdere stasera. Puntava a non perdere. Cioè, speravo, puntava a non perdere. Cosa che puntualmente, quando da una partita, come dice il buon Max Montana, la Juve gioca per non perdere, poi alla fine perde. Io la partita l'ho vista, l'ho vista. Disdico l'abbonamento da Zon, veramente, perché comunque... Stavo per dire una brutta parola verso il mio pubblico, io non la dico. Perché comunque, anche se molti, molte delle persone che mi seguono, li posso stare sul cazzo, quello che volete. Rimanete comunque il pubblico di questo profilo, di questo canale. E quindi siete voi i padroni. Ma, come ho detto, prestazione pessima della Juventus, un tiro in porta, mezzo tiro in porta, anzi. Quindi io non ho altro da aggiungere, se non appunto un applauso all'Inter per quello che ha fatto. Non ho mai detto che la Juve puntava a vincere nulla. Grazie. Grazie.